A 25 anni dalla scomparsa di Don Tonino Bello ci accorgiamo quanto sia estremamente attuale nella quotidianità nei temi più scottanti del 2017. Ma di Don Tonino non si può parlare al passato, possiamo parlare al presente ma credo che si debba parlare al futuro perché la seminagione che lui ha fatto appunto 25 anni fa e direi da 35 anni fa, dal momento che proprio ieri abbiamo celebrato questo 35esimo, è una seminagione un po' lunga perché ha guardato troppo in avanti rispetto alla nostra capacità, alle nostre prospettive però i frutti ci sono, alcuni frutti ci sono, tanta gente che ancora oggi porta avanti il suo pensiero, porta avanti anche le sue opere con tanta fatica perché è più facile portare avanti delle opere quando c'è il fondatore che le anima, molto più difficile portarle avanti quando manca lo spirito e l'anima, quindi questo è apprezzabile, per me sono fioriture. I temi di Don Tonino sono temi assolutamente generatori come lui stesso amava dire, cioè temi che generano vita, che generano movimento, dinamismo, che generano anche relazioni soprattutto perché se c'è una caratteristica di Don Tonino è stata proprio la capacità di intessere relazioni con chiunque, credente, non credente, di qualunque cultura. Ecco questi sono temi assolutamente attuali, vista anche la cronaca di questi giorni, assolutamente attuali e il fatto che lui ne abbia parlato e abbia anche speso la sua vita ma proprio consumata, ecco vuol dire che sono temi importanti sui quali noi dobbiamo ancora investire per il nostro futuro. Nel libro Don Tonino si rivolge direttamente ai ragazzi, riesce ad arrivare con una dialettica incredibile, che riscontri stai avendo da parte dei ragazzi di ieri e di oggi? Guarda, in questi giorni, in questi mesi, sono 22 scuole di tutta la diocesi, dalle elementari alle superiori e anche fuori diocesi che stanno lavorando sui testi di Don Tonino, oltre 1300 visite sui luoghi di Don Tonino a Molfetta, scolaresche anche da Ruvo sono andate, stanno andando e poi in classe i docenti ne stanno parlando a partire anche dai testi di questo volume. Hanno una presa diretta fortissima, proponendolo in un modo particolare, hanno una presa diretta perché Don Tonino parla il linguaggio dei ragazzi, ragazzi di oggi e ragazzi di ieri, quindi un linguaggio che è ancora oggi attualissimo. I ragazzi rispondono molto e questo è indice del fatto che se c'è qualcuno che riesce a colpire, a parlare, a colpire nel segno, a toccare le vite, a toccare le corde più intime, i ragazzi rispondono. Quando invece le nostre parole sono un po' cembali, così sonori, ma che non dicono niente, i ragazzi non ci ascoltano.